la regina delle tre montagne doro c'era una volta un pover'uomo che aveva tre figliuoli quest'uomo era ammalato da star male e un giorno chiamò i suoi figlioli intorno al letto e disse vedete che sto per morire da lasciarvi non ho nulla ma vi prego ad essere onesti e lavorare come ho sempre fatto io e il cielo vi aiuterà spirò e i tre ragazzi restarono soli disse il più grande andiamo dunque a cercare lavoro come ci ha detto nostro padre e tutti e tre presero ed andarono per il mondo quando fu sera si trovarono di fronte a un bel palazzo e bussarono per domandare alloggio chiamano gridano da ogni parte e non vedono nessuno allora entrano e trovano una tavola apparecchiata per tre con tanta buona roba restano un po' a guardare a bocca aperta poi il grande disse già che non si vede nessuno mangiamo e se qualcuno si farà vivo domanderemo il permesso e si misero a mangiare e a bere finché ce ne stava poi cominciarono a girare il palazzo c'era una stanza con un bel letto e sopra un bel dacchino e un'altra stanza con un altro letto e sopra una ghirlanda di fiori e un altro letto in un'altra stanza con sopra una corona di foglie d'oro paiono proprio fatti apposta per noi questi letti dissero i ragazzi bene corichiamoci andarono ognuno in una stanza e il grande disse oi badate bene ad alzarvi presto per andar via perché io non vi aspetto alla mattina il grande si alzò di buon'ora e senza dir nulla prende e se ne va era un tipo fatto a modo suo quando si sveglia il mezzano va nella stanza del fratello maggiore e vede che era già andato via allora prende anche lui e se ne va il piccolo dormiva ancora della grossa salzò tardi e cercò inutilmente i fratelli la tavola era apparecchiata per la colazione il piccolo mangiò e poi si affacciò a una finestra fuori c'era un bel giardino e il piccolo volle scendere a vederlo il piccolo si chiamava sandrino ed era proprio un bel giovenetto girando per il giardino in fondo a una cavedagna vide una gran vasca piena d'acqua dall'acqua usciva la testa ad una bellissima giovane che stava lì ferma immersa fino al collo sandrino disse cosa fa lì signora e lei rispose è il buon vento che ti porta bravo giovane sappiate che io sono la regina delle tre montagne d'oro mi hanno fatto un incantesimo e sono condannata qua nell'acqua finché non trovo un coraggioso che dorma tre sere di seguito nel palazzo se non è che questo disse sandrino ci dormirò io ebbene disse la regina chi ci dorme dopo tre giorni io lo sposo ma bada di non aver paura se senti del rumore che nella stanza ci verranno tutte le bestie feroci ma se ti terrai forte vedrai che andranno via senza farti niente io non ho paura stia pur certa farò quello che lei mi ha detto alla sera il ragazzo va a letto e quando è mezzanotte ecco che sente un rumore era il ruggito delle bestie feroci ora ci siamo dice sandrino e sta a vedere cosa succede vennero nella stanza lupi orsi aquile serpenti e tante altre sorta di bestie da far paura anche al diavolo e presero a girare dappertutto fin dietro al letto ma sandrino si teneva forte e così a poco a poco le bestie abbandonarono la stanza e buonanotte alla mattina il ragazzo andò alla vasca la regina era fuori dall'acqua fino alla cintura era contenta e gli fece molti complimenti la sera nella stanza di sandrino la stessa musica con tutte quelle bestie ma lui stette forte e la mattina andò a vedere la regina che era fuor d'acqua fino ai polpacci gli disse tante belle cose e sandrino andò a far colazione tutto contento s'arrivò all'ultima sera le bestie avevano un bel ruggire e girare fin dietro al capezzale sandrino tenne duro finché non se ne andarono la regina al mattino aveva nell'acqua solo i piedi lui le diede la mano e la fece camminare fin fuori dell'acqua comparvero delle damigelle che le fecero gran festa andarono subito a far colazione e stabilirono di sposarsi di lì a tre giorni alla mattina del giorno delle nozze la regina disse a sandrino devo dirti una cosa molto grave quando sarai sull'ingino occhiatoio non t'addormentare altrimenti io sparisco e tu non mi vedrai più ma ci mancherebbe anche questa disse sandrino come può essere che mi addormenti andarono e quando si misero sull'ingino occhiatoio a lui venne tanto di quel gran sonno che si addormentò e la regina scappò via quando di lì a poco sandrino si svegliò vide che non c'era più la regina oh me disgraziato cominciò a dire e ritornò al palazzo e la cercò dappertutto e vedendo che non la trovava prese un sacco di quattrini e via per il mondo dopo aver camminato fino a sera entrò in una piccola locanda e domandò al locandiere se aveva visto la regina delle tre montagne d'oro io no che non l'ho vista disse il locandiere ma lei deve sapere che io sono quello che comanda tutti gli animali della terra e adesso domanderò a loro se l'han vista lanciò un fischio ed ecco che arrivarono cani gatti tigri leoni scimmie e altri animali e il locandiere chiese c'è nessuno di voi altri che abbia visto la regina delle tre montagne d'oro no risposero gli animali non l'abbiamo proprio vista il locandiere riconzò tutte le bestie e disse a sandrino senta la mattina sa cosa faccio la mando da mio fratello che è quello che comanda tutti i pesci sentirà da loro se l'han vista alla mattina sandrino donò al locandiere una borsa di quattrini prese e se ne andò da questo fratello quando sentì che era mandato dal fratello l'uomo che comandava tutti i pesci ricevette sandrino volentieri nella sua locanda e gli disse aspetti un momento ora chiamo tutti i pesci e gli domando lanciò un fischio ed ecco arrivare i lucci le tinche le anguille gli storioni i delfini le balene e ogni sorta di pesci no non abbiamo visto niente risposero tutti e il locandiere li licenziò domani disse a sandrino le farò un biglietto per mio fratello quello che comanda gli uccelli e chissà che loro non l'abbiano vista sandrino non vedeva l'ora che venisse l'indomani cammina cammina arrivò alla terza locanda ora la servo subito disse il locandiere e al suo fischio cominciarono a volare intorno galline givette barbagianni fagiani uccelli del paradiso falchi solo l'aquila non si vedeva allora il locandiere fischiò un'altra volta e l'aquila comparve scusatemi se ho tardato disse ero a pranzo alla corte del re di marone che si sposa con la regina delle tre montagne d'oro al sentire questa nuova sandrino si diede alla disperazione ma il capo di tutti gli uccelli disse stia buono ora vediamo ad aggiustare la cosa e rivoltosi all'aquila vuoi portare questo giovane alla corte del re marone subito disse l'aquila ma voglio che tutte le volte che chiedo acqua mi dia acqua tutte le volte che chiedo pane mi dia pane e tutte le volte che chiedo carne mi dia carne se no lo getto in mare allora il giovane si caricò due corbe di pane due bariletti d'acqua e due libre di carne l'aquila spiccò il volo con lui a cavallo ogni volta che l'aquila gli domandava pane, acqua, carne lui gliela dava subito ma avevano da attraversare ancora un tratto di mare ed era rimasto senza carne l'aquila gli chiese carne e lui non sapeva come fare si tagliò un pezzo di gamba e la diede all'aquila la regina gli aveva dato un unguento magico con cui si spalmò la ferita e guarì l'aquila lo portò proprio nella camera della regina appena si videro caddero nelle braccia l'uno dell'altro si raccontarono tutto e poi la regina lo accompagnò dal re e gli disse che questo era il suo liberatore e il suo marito il re trovò giusta la cosa e con gran piacere decretò le nozze che durarono un mese e una settimana grazie a tutti grazie a tutti